Ciao, siamo lo studente del Dipartimento di Italianistica Università del Cairo e citiamo oggi il canto 26esimo dell'Inferno. Sono Mario e sono gezziano al 100%, malgrado il nome e la mia faccia. Sono Sara, la piccola, perché ci sono tante Sara. Ciao, sono Sof... Ciao, sono Aya e basta. Ciao, sono Mohamed, sono gezziano e si vede. Amo tanto l'Italia e si vede anche. O di Fiorenza, poiché sei grande, che per mare e per terra batti l'ale e poi l'Inferno tuo nome si espande. E tra gli ladroni trovai cinque cotali tuoi cittadini, onde mi ven vergogna. E tu, in grande orranza, non ne sale, ma se presto il mattino del versi sogna, tu sentirai da qual da piccola tempo, di quel che è prato non c'altri t'agonia. E se già fosse, non sarei per tempo. Così fossei da che può esserde che più mi graverà come piume a tempo. Noi ci partimmo, e su per le scalee, che ne avea fatto i borni a scendere pria. Rimontò l'educa mio e trassa me, e proseguendo la solinga via, tra le schegge e tra rocchi dello scoglio, lo piede San Salaman non si spedìa. Mi ridolsi, e ora mi ridolio, quando dirizzo la mente a ciò che io vidi, e più l'ingegno affreno chi non solio, perché non corra che virtù non il guidi. Sì che se stella buona è meglio cosa, ma dato il ben che stessi non mi vidi, quanto il villano che al poggio si riposa. E qual colui che si vingiò con le orsi, vide il carro di Elia al dipartire, quando i cavalli al cielo erti le orsi, che nel botea si con gli occhi seguire, che vedesse altro che la fiamma sola, si come nuveletta in su salire. Tal si muove ciascuna per la gola del fosso, che nessuna mostra il furto, e ogni fiamma in beccatori invola. Io stavo sovra il ponte a vedere il surto, sì che io se non avessi un ronchion preso, caduto sarei giù senza essere urto, e il duca, che mi vidi tanto atteso, disse dentro dai fuochi sono le spiriti, che tu non si faccia di quel che Elia è inceso. Maestro mio, risposi io, per udirti sono più certo, ma già mi era avviso che così fosse, e già voleva dirti chi è quel fuoco che viense diviso di sopra, che va a sorgere della birra dove Teoclico il fratello fa un miso? Risposa a me. Là dentro si martira Ulissi e Diomede, e così insieme alla vendetta vanno come all'ira, e dentro della loro fiamma si geme, l'agguato del cavall che fe la porta onde uscide i romani il gintel seme. Piangevesi entro l'arte perché? Morta. Dei di me ancora si due al d'Achille, e del palladio vena vi si porta. Sei posto dentro da quelle faville parlare di Sio? Maestro, assai, ti impiego, e ripiego, che nel prego vaglia mille, che non mi faccia dell'attendere niego, finché la fiamma cornuta qua venia. Vedi che del desio, per lei mi piego. La tua preghiera è degna di molta loda, e io però l'accetto. Ma fa che la tua lingua si sostegna, lascia parlare a me, che ho concetto ci che tu vuoi, che sarebbero schivi, perché fuor greci forse del tuo detto. Poiché la fiamma fu venuta qui, dove parvi il mio duca tempo e luco, e in questa forma lui parlare o divi. Grazie.